Oggi ci rifacciamo le unghiette insieme, è proprio ora di farsi le unghiette tema San Valentino, anche perché ho trovato questo smalto gel troppo cute che veramente non ho resistito, quando l'ho visto l'ho preso subito perché ha tutti questi cuoricini, ora vi faccio vedere, ecco qua lo stavo tirando fuori dalla confezione e i cuoricini sono già stampati in mezzo ai glitter, quindi voi ve lo spalmate sull'unghia e vengono fuori automaticamente tutti questi, questa pioggia di cuoricini e glitter che è veramente una meraviglia, così non dovete stare a perdere tempo a appiccicare gli adesivi che sono molto fastidiosi, invece qui fate subito, perché questo è un top coat con cuoricini compresi, guardate che bello, qui stavo facendo alcune prove perché io di solito provo sempre prima di passare subito all'unghia e devo dire che l'effetto mi piaceva tantissimo, soprattutto questi glitter rossi, non lo so, secondo me ci stavano davvero davvero bene, sono stata proprio contenta di averlo preso, l'ho pagato intorno ai 9 euro e questo è il risultato finale sulle mie unghie, non siate cattivi perché non sono una professionista e ho imparato a fare tutto quanto da sola, risultato tra pochissimo, eccole, a me piacciono parecchio, fatemi sapere.